La Zafferana si aggiudica il big match dell'ultima giornata di andata del girone M della Serie B2 femminile, in quattro set ratificando il titolo di campione d'inverno ai danni dell'Alba Verde, presentatasi nella palestra di AC Castello con le giuste ambizioni della seconda della classe. Al termine di una gara senza esclusione di colpi, la formazione catanese mantiene la propria imbattibilità e porta a quattro punti il vantaggio sulla squadra nissena, che adesso, dopo la vittoria della pallavolo crotone, scivola al terzo posto in classifica. Uscite da una settimana difficile causa infortuni, le pallavoliste nissene non hanno lesinato grinta impegno e proprio con questo spirito che l'Alba Verde deve ripartire nel girone di ritorno, recuperando le infortunate, riflettendo sugli errori e affrontando con il piede schiacciato sull'acceleratore la lunga volata del girone di ritorno. I risultati della tredicesima giornata del campionato di Serie B2 girone M Pallavolo Crotone Funivia Etna 3 a 0 Procorri e Ricina Fidelis Torretta 2 a 3 Planet Ardens Comiso 3 a 1 Zafferana Alba Verde 3 a 1 Saracena Gioiosa 3 a 2 Bricositi Stefanese 3 a 1 Volley Region Cuscatania 1 a 3 La classifica Zafferana Prima con 35 punti Pallavolo Crotone 32 Alba Verde 31 Procorri e Ricina 27 Fidelis Torretta 25 Gioiosa e Cuscatania 24 Funivia Etna 18 Saracena 17 Volley Region 15 Bricositi 12 Ardens Comiso 6 Planet 4 Chiude la Stefanese a 3 punti